Attacca ancora sull'asse De Nicolao, Tessitori fa saltare gli avversari, poi la buona circolazione per la tripla aperta da parte! Favorevole alla GV Napoli con il time out e poi due cambi, ancora Parks dall'angolo e continua! Pallino fischiati però... Uno su due ma rimbalzo fessivo di Tessitori ancora! Reggio Tucker! A gestire il numero zero con la palla recuperata ancora dalla difesa dell'Umana Reier e Tucker si protegge, segna! Non di poco la conclusione, adesso c'è dunque il potenziale possesso del pareggio per l'Umana Reier, non è pareggio ma è ancora... Con Lever, ancora Tessitori contro Lever, mette palla per terra, riapre per Tucker, la tripla aperta, assegno! Tucker che parte in velocità, chiede spaziatura ai compagni, step back e sospensione di Reggio Tucker! Grazie! Grazie!